Vigili del fuoco impegnati in contrada Zovia Schio nel terdo pomeriggio di mercoledì per un incendio che ha coinvolto una casa. I pompieri intervenuti con tre mezzi antincendio tra cui l'autoscala e otto operatori hanno circoscritto le fiamme evitando l'estensione all'intera abitazione, bruciato il piano terra e danneggiato il piano sovrastante. Nessuna persona è rimasta ferita, sono riusciti a mettersi in salvo. Le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza della casa sono durate fino a notte inoltrata. Sono in corso le indagini per capire e valutare le cause del rogo.